E con Antonella Maffei ci spostiamo sull'Isola Verde per l'Ischia Film Festival ed il premio alla carriera al regista Oliver Stone. Una nuotata rigenerante nelle acque cristalline della baia di carta romana e la dolcezza del pomodorino ischitano illuminano con un sorriso il volto di Oliver Stone. Svanisce in un istante il rude incontro con la stampa avuto in mattinata. Il pluripremiato regista statunitense, quattro Oscar per Platoon, pellicola che racconta la guerra in Vietnam, da lui stesso combattuta lasciando privilegi e coronando il sogno di diventare regista, e sull'Isola Verde per il premio alla carriera assegnatogli dall'Ischia Film Festival la kermess ideata da Michelangelo Messina in programma fino a sabato al Castello Aragonese. Stone annuncia che presto lavorerà da un film sui cambiamenti del clima e che al Festival di Cannes presenterà il seguito dell'inchiesta su JFK. Ho deciso di raccontare JFK per i giovani, tornando sul caso dopo la terza inchiesta ufficiale e dopo il mio film. Confessa di essere affascinato dal nostro paese, ho approfondito la storia dell'impero romano e che non si può ignorare il cinema italiano, Rossellini, Fellini, De Sica. Come non si può ignorare l'ospitalità e il buon cibo. Cena finale sulla terrazza del monastero a base di crudi, linguine con alici e il profumo di limone e pesce grigliato. Stone che ama pasti veloci, 45 minuti al massimo, si lascia rapire dalla bellezza del castello e il tempo vola.